Allora, ho guardato la live, ciao, 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 ho guardato la live di Jaguar Man, Jaguar Man, ragazzi mi gioco tutti in questo video, mi gioco tutta la mia reputazione, allora, EJ, EJ, va bene, EJ, prima serie, questa è una prima serie, 69, 73, fate quello che vi pare, allora non mi è piaciuto, ma non è piaciuto neanche ai tuoi fan, perché ti hanno commentato, ai tuoi fan non è piaciuto, perché? Perché? Prima di tutto il Presidente ha fatto vedere una foto di EJ, mi dovevi far vedere anche quelle prima, però va bene, la documentazione va bene, ma chiudete, stringete, non due ore di comunicato, stampa, due maroni, due maroni, ne ho le palle piene, ne ho le palle piene! Va bene, va bene, questa è un EJ, questa è una prima serie meravigliosa, dal 69 me le sto studiando tutto, ti apro come una cossa, mi sto studiando tutte le Jaguar, ti apro, io le macchine le conosco, le conosco tu, ti apro come una cossa, 1969, va bene? Questa qua è l'EJC, ecco, adesso qua impazzerà il problema se è una prima o una seconda serie, secondo me è una seconda serie, comunque, vedete voi, comunque questa è un EJC che è quella che sta volando nelle quotazioni, comprate l'EJC, l'unica macchina da comprare è l'EJC! Poi gestione Lions, capito? Quindi, vabbè, comunque, gestione Lions è la prima, cioè, proprio gestione originale Jaguar, questa è la vera Jaguar, prima serie, seconda serie, la seconda, dopo subentra lo stato inglese, vabbè, è un discorso lungo, questa qui viene 22.900 euro e le quotazioni stanno volando, 1900, questa è una seconda serie, 1975, hai capito? Scusa se mi sono scaldato, ma il video è noioso, il tuo video è noioso, palloso, poi le cineprese lì, le videocamere lì, come cazzo, non si vede un tubo, quell'altro c'è un'officina che spacca, bellissima, gli faccio i miei complimenti, però ha fatto un po' di pali in frasca, ordine, ci vuole ordine, nelle descrizioni.